Raccontaci Maru la tua esperienza del ban, senta avvocato, senta. Avvocato mi ascolti bene, adesso lei mi darà anche gli estremi, insomma se io posso fare una denuncia. Allora io ero in live, stavo streamando una mia uscita con una mia amica e ho incontrato questo gruppo di ragazzi, tra cui uno che era interessato a me e voleva provarci. Riprendiamo SKSK, quindi avvocato, io mi metto a parlare con questo ragazzo che mi sfida un gioco e praticamente uno dei suoi amici, praticamente conoscevo, mi dice ragazzi non vi preoccupate, mentre fate questa cosa vi riprendo io, benissimo, allora gli do il telefono che riprende, io ingenuamente gliel'ho dato e praticamente che cosa succede avvocato? Che un altro di questi ragazzi prende e si tira giù i pantaloni e fa vedere il pisello. Mi dissocio. E ho fatto un elicottero anche, ovvero. Ah sì? Sì. Allora, allora. In un luogo pubblico, eh. Allora, è chiaro che questa live ha due momenti ben distinti, ok? Io vorrei... Max, mi diviso ciarti, fa l'uomo e tira fuori il cazzo. Onoriamo di pre, tanta stima di pre, sei il migliore. Max, malgrado tu hai un bel cazzo, grandissimo pistolone. Maruti preferisco quando non parli però, ok? Mi dissocio. No, no, però ecco, ma la cosa che dici è importante, io direi così, ti chiedo questo perché, come dicevo prima, io è vero che, se tu immagina che io ho saputo della live un minuto fa, ok? E quindi solo non posso, cioè solo in una macchina in questo momento, di notte, con il rischio che di attirare l'attenzione di quanti tu li sconti, capisci, voglio dire. Ma lei non sta violando la legge, mi scusi. Esatto. Sì, però si possono sospettire. Beh, no, no, cioè non è che non la viola, la legge, la viola, se arrivano qua, trovano il problema. Ah, sì, sì, ho capito. Mi dissocio da questa sua affermazione, sono totalmente contrario. Comunque, ma, ma, se non sto spiegando le cose come stanno solo se avevo prima. Ma rompendo i bioni, vedi, avvocato, rompendo i bioni, mazzo, c'è ragione. Avvocato, scusi, ma non hanno, comunque loro, cioè non penso si insospettiscano per una chiamata, che nel senso, lei rimane calmo. Ma comunque, Maru, 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 una domanda, tu, Maru, tu comunque sei sbannata, sei sbannata, vero? No, un attimo, Maru, Maru, il tuo ban è finito, il tuo ban è finito? Sì, non mi accorto di tweet, secondo me ti faccio... Avvocato, avvocato, non devi giustificarti, sei e sarai sempre il migliore. Puoi diventare un attimo, allora, tu eri in live sul tuo canale, hai accorto un ragazzo? Andrea, fatto come un colombiano, ma ti rendi conto che hai dissatudine? Oh, 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 ma che cazzo sto vedendo? Mi dissocio. Oh, oh, odio la polizia, la luce, la polizia, la polizia, la polizia! Non so, vuol dire, non mangio pure. Allora, io ho oggi, danno il mio figlio, son crenti, ma... Beh, comunque, vado, ascolta, no, no, eh... Avvocato, ho notato che appena vede una figa reagisce meglio che ha una vista di coca. Mi dissocio. È incredibile un esempio per il mondo. No, ma l'argomento di Mauro è scoperto. Dovrebbe candidarsi alla presidenza di San Marino, mi trasferirei solo per lei. Max, vogliamo una canzone dell'avvocato di Olercio. Mi dissocio. Allora, Mauro, prima di parlare, io chiedo altri 30 secondi... Ma ti rendi conto, ma ti rendi conto, ma ti rendi conto, ma ti rendi conto... Oh, 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 oh... S-K-S-S-K-S-S-K-S-S... Adesso spadirà nel vuoto, avvocato. 30 secondi, tu... E poi approfondiamo il caso di Maru. Sì, avvocato. Sì, avvocato. Sì, avvocato. Sì, avvocato. Sì, avvocato. Sì, avvocato. Raga, mi sa che sta andando a urlare da qualche parte perché sta veramente malato. Mi scop... No, vabbè, sta... 30 secondi... Mi dissocio, mi dissocio da Rubino che... Il tempo di un'isturata. Ma volante il vento. Maru, ma hai la maglietta di Breaking Bad? Sì. Che donna. Che donna. Io, Max, farei a vedere se Maru vuole la foto... La foto quella tattica in costume di Maru. No. E quindi diciamo... No. Ma come? È contestualizzato il costume? No, no. È contestualizzato il costume. No, ma no. Non mostriamolo. Per favore, descrivila. Qualcuno la descriva. Vi prego. Vi prego. Vi prego. Non ti anche vanno a loro. Vi prego. Rubino, io ho capito che lei non mi vuole su Twitch. Io ho capito che lei non mi vuole su Twitch. Ma dobbiamo condurre... Dobbiamo condurre un programma assieme.